Lunedì 9 aprile 2017, Roma come va a Roma? Io continuo a documentare, sto alla casa del Gezza, che è un bel posto, è il primo municipio al centro di Roma, qui ci sono le mure aureliane come sapete, ma io dico c'è la vegetazione che sembra di stare in una foresta pluviale, ma poi un anziano, un ragazzino che volesse andare a mettersi in quella macchina è impossibilitato, non è proprio possibile, guardate, sto qui alla casa del Gezza, perché si riduce così Roma? Perché nessuno taglia questi giardini? Per quale motivo non si rattoppano le buche? Perché? Perché? Perché?